Giovedì 15 novembre 2018 Non mi hai più detto ti amo Con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia Martedì 11 dicembre 2018 Belle ripiene Con Rossella Brescia, Tosca d'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo Lunedì 28 gennaio 2019 La Cena delle Belve Regia di Julien Sibre e Virginia Acqua Venerdì 8 febbraio 2019 La Guerra dei Rosis Con Ambra Angiolini Regia di Filippo Dini Mercoledì 27 febbraio 2019 Il Padre con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere Martedì 19 marzo 2019 Al Teatro Cristallo La commedia frivola per gente seria Di Oscar Wilde L'importanza di chiamarsi Ernesto Martedì 2 aprile 2019 Michela Andreozzi Vittoria Belvedere Maria Grazia Cucinotta Ci presentano Figlie di Eva Grazie a tutti